Back in ETV Che cosa ci suoni? Allora, vi suono una canzone nuova quindi che volevo presentare con voi per la prima volta perché è proprio a tema e si chiama Donato Fantastico, poi ne parliamo Mi abbracci, ti abbraccio mi accarezzi con la mano vorrei starti appiccicato come la tenda della doccia Ti ho comprato dei fiori volevo regalarteli ma non ti ho trovata allora li ho mangiati e sai sono amari e canto la nostra canzone affacciato alla finestra che dà sul cortile interno Sei come l'eroina sei la caffeina la mattina senza te mi sento un pallone a bordo campo a partita finita e canto la nostra canzone affacciato alla finestra che dà sul cortile interno e me ne vado ad un'asta come alla tv e compro una marmita di non far rumore così quando vengo a trovarti non mi senti più Mi abbraccio e ti abbraccio mi accarezzi con la mano vorrei starti appiccicato come la tenda della doccia e canto la nostra canzone mentre tengo fra le braccia la creatura che mi hai donato grande Stefano Palmieri ma questa donato mi dicevi una canzone nuovissima la volevi presentare qua con noi e non fa parte di questo tuo EP cantautore da spiaggia come sei freaky lo possiamo dire Sì, la spiaggia fa parte del mio dinna essendo di Taranto insomma e quindi ho fatto questo tour cantautore da spiaggia con questo ombrellone con le luci diciamo l'artista di strada però per le spiagge d'Italia è stata un'esperienza affosa Quanto è durato questo? Dura ogni volta che c'è bel tempo e che mi va vado continuamente perché alla fine mi piace è una cosa che mi fa conoscere tanta gente nuova E ti ha permesso pure di stampare questo Fantastico EP che come lo troviamo? Tra l'altro ci sono un po' di ospiti e ho visto li vuoi presentare? Ci sono tanti ospiti in particolare c'è la mia band che voglio presentare Bernardino Ponzani alla batteria Massimo Pariboni alla lapsteel mandolino elettrico e chitarra e Pietro Lorenzotti al basso e lo potete trovare ovunque su Spotify, Deezer, iTunes eccetera e poi sulla mia pagina insomma c'è sempre di tutto insomma vari aggiornamenti Fantastico se qualcuno invece ti vuole venire a sentire dal vivo hai qualche data così ufficiale oppure dove sarai quest'estate? Sarò un po' ovunque quindi basta solo cercarmi e rimarremo aggiornati Fantastico allora Stefano io ti ringrazio spero di poter venire con te in una di queste spiagge e niente ci sentiamo per una prossima puntata ma farei un'altra canzone ti ospitiamo di nuovo qui a Balconi TV Grazie mille ciao a tutti Stefano Palmieri questo Balconi TV Roma io sono sempre Mika ci sentiamo la prossima settimana ciao grazie back in ETV ciao a tutti